Ad Alfedena prima uscita per la nuova Versa che si è misurata contro il Bari. Nel caldo pomeriggio abruzzese si sono intraviste interessanti trame per l'undici di Romaniello che con appena una settimana di lavoro non ha certo sfigurato. I pugliesi dal canto loro hanno dimostrato di sentirsi a proprio agio sul nuovissimo terreno di gioco colpendo due volte in dieci minuti. Stessi suggeritori con Albadoro che innesca Caputo, passaggio per Galano e 1-0. Il raddoppio è Di Sabelli con un'azione in fotocopia. Difesa Versana sorpresa e gara in salita. Minuto 12. Il neoacquisto Jovene fa fuori due avversari ma conclude a lato. Il Trissi ha ancora Di Sabelli che sfrutta un'indecisione nelle retrovie e firma il Trissi. Gli ospiti provano a servire Polani che però è tenuto a bada dai difensori biancorossi e alla mezz'ora Alto Bello per poco non serve il poker. Traversa piena con Granianiello battuto. È il turno del solito Jovene che chiama la manna a bloccare il tiro in due tempi con un sinistro destinato all'incrocio. La prima frazione si chiude con l'ennesimo legno barese e stavolta di Sciaudone. Nella ripresa formazioni completamente stravolte, poi subito Caputo che incorna pochi passi da Granianiello. Grandolfo sprega il quinto gol che giunge in mischia al 27esimo con partipilo, lesso a scaraventare in fondo la rete un pallone vacante su calcio d'angolo. C'è spazio pure per Puka che tenta una personale azione sulla destra ma vede finire la corsa della sfera a fondo campo. Impossibile dare giudizi dopo così pochi giorni, la Normanna sta cementando il gruppo e la sensazione è che il lavoro del DS Pasquarello non sia ancora finito. A parte la categoria di differenza ma oggi c'era poco da vedere per noi perché comunque siamo da una settimana in ritiro, loro hanno molto più birra nelle gambe e si è visto apertamente. I miei troppo sulle gambe, le gambe sono ancora pesanti, ancora da rodare. Ti ripeto, è presto per dare dei giudizi definitivi, c'è ancora gente che deve carburare il motore. È chiaro che avere una settimana nelle gambe i giocatori non hanno quel valore a cui sono abituati. Per caratteristiche dei giocatori diciamo che il 4-3 in questo momento è un modulo che si addice a questo tipo di calciatori che ho a disposizione. Poi comunque c'è sempre possibilità di cambiare.